carissime santa sera da tutti ave maria ben ritrovati nuova puntata del ciclo di catechesi girare nella divina volontà questa è la numero 10 un ciclo che andrà avanti lentamente con calma grazie a dio non ci corre dietro nessuno nel senso che abbiamo tempo di conoscere entrare ed approfondire piano piano insomma questo mondo peculiare ecco della divina volontà secondo le rivelazioni fatti da gesù alla serva di dio luisa piccarreta introducendo questa puntata ricordo che questo è un altro un ulteriore ciclo sistematico diciamo così di catechesi sulla divina volontà che chiude un po un cerchio di quello che ho cercato speriamo per volontà di dio e con il suo aiuto insomma di di offrire con un piccolo contributo diciamo sistematico alla conoscenza di questi scritti no oltre a quello diciamo così un po spirituale che cerco di dare quotidianamente con le meditazioni condivise proprio su ogni singolo brano del libro di cielo ci sono state poi delle catechesi tematiche che vorrei ricordarle e la prima il dono della divina volontà una di oltre una cinquantina insomma di catechesi che presenta un po una presentazione diciamo così globale sintetica e sistematica di quello che mi sembra di aver capito che gesù abbia voluto fare con gli scritti del libro di cielo donati alla chiesa attraverso la serva di dio luisa piccarreta poi c'è stato un altro ciclo di catechesi che è appunto titolato adamo e la vita nella divina volontà che ha cercato appunto di approfondire com'era la vita di adamo prima di uscire dalla divina volontà perché questo ce l'ha spiegato gesù non lo sapevamo e ha cercato di dirci qualcosa poi abbiamo cominciato un pochino con quegli atti peculiari che sono diciamo le due caratteristiche tipiche di questo mondo che è l'esercizio del fondersi nella divina volontà altro ciclo di catechesi e adesso abbiamo il girare nella divina volontà oltre a queste cose per come per ragioni di completezza esiste anche un ciclo di di meditazione sull'opera la vergine maria nel regno della della divina volontà che è l'opera in cui la madonna stessa in persona da indicazioni per quello che concerne appunto questo grande e splendido regno di cui lei è la è la prima insomma è la prima dopo l'unico quindi all'imperatrice a fianco all'imperatore ora il brano di questa sera è molto lungo per cui signora mi darà grazie di riuscire a leggerlo tratto dal volume diciassettesimo del 10 maggio del 1925 e il titolo appunto è diversi modi di fondersi nel divino volere questo brano sicuramente l'abbiamo già trattato anche nel corso del ciclo di catechesi appunto fondersi nella divina volontà sicuramente però noi comprendiamo che questi questi cicli di catechesi sono fatti appunto raccogliendo degli estratti di brani riuniti intorno ad un certo tema ed è certamente possibile cioè i temi del girare del fondersi per certi aspetti si si incrociano no perché non è che noi li distinguiamo perché non sono esattamente la stessa cosa hanno comunque delle ampie diciamo zone di 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 contiguità e quindi può succedere questo fatto ma capiamo insomma che rileggere e ricommentare o rimeditare un brano io poi sarei curioso di andare non ho tempo di andare a risentire perché sicuramente capita con questi scritti una cosa analoga a quella che capita quando si commenta anche la la sacra bibbia quindi la la sacra rivelazione cioè magari si possono essere dei punti di contatto ma si 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 tirano fuori cose sempre nuove no quindi speriamo che sia così anche in questo caso procedo subito con la lettura leggo il titoletto perché può essere utile diciamo per introdurci no diversi modi di fondersi nel divino volere nella divina volontà c'è il vuoto degli atti umani che si devono fare in essa giro per tutte le cose create vi imprimo un ti amo dolore e perdono questi sono un po' gli argomenti che vedremo diciamo così svolgersi in questo scritto scrivo solo per obbedire e vi fa un misto di cose passate di cose presente molte volte nei miei scritti dico mi stavo fondendo nel santo volere divino e non mi spiego di più ora costretta dall'ubbidienza dico quello che mi succede nel fondermi mentre mi fondo innanzi alla mia mente si fa presente un vuoto immenso tutto di luce che non si trova né dove giunge l'altezza né dove arriva la profondità né i confini di destra né di sinistra né quello davanti né quello di dietro in mezzo a questa immensità ad un punto altissimo mi sembra di vedere la divinità oppure le tre divine persone che mi aspettano ma quasi se è questo sempre mentalmente ed io non so come una piccola bambina esce da me ma sono io stessa forse la piccola anima mia ma è commovente è commovente vedere questa piccola bambina mettersi in via in questo vuoto immenso tutta sola camminatibina in punta di piedi con gli occhi sempre rivolti dove scorgere le divine persone perché teme che se abbassa lo sguardo in quel vuoto immenso non sa quale punto di andare a finire tutta la sua forza in quello sguardo fisso in alto che essendo ricambiato con lo sguardo dell'altezza suprema prende forza nel cammino ora mentre giunge innanzi a loro si sprofonda con la faccia nel vuoto per adorare la maestà divina ma una mano delle divine persone rialza la piccola bambina e le dicono la figlia nostra la piccola figlia della nostra volontà vieni nelle nostre braccia ed essa nel sentire ciò si mette in festa e mette in festa le tre divine persone che aspettano il disimpegno del suo ufficio da loro affidatole ed essa con una grazia proprio di una bambina dice vengo ad adorarvi a benedirvi a ringraziarvi per tutti vengo a legarvi al vostro trono tutte le volontà umane di tutte le generazioni dal primo all'ultimo uomo affinché tutti riconoscano la vostra volontà suprema l'adorino la amino e le diano vita nelle anime loro maesta suprema in questo vuoto immenso ci sono tutte le creature ed io voglio prenderle per metterle prenderle tutte per mettere nel vostro santo volere affinché tutte ritornino al principio da dove sono uscite cioè dalla vostra volontà perciò sono venuta nelle vostre braccia paterne per portarvi tutti i vostri figli e miei fratelli e legarli tutti con la vostra volontà ed io al nome di tutti e per tutti voglio ripararvi e darvi l'omaggio la gloria come se tutti avessero fatto la vostra santissima volontà ma te vi prego che non ci sia più separazione tra volontà divina e umana è una piccola bambina che ciò vi chiede e ai piccoli so che voi non sapete negare nulla ma chi può dire tutto sarei troppo lunga oltre che mi mancano i vocaboli di ciò che dico innanzi all'altezza suprema mi sembra che qui nel basso mondo non si usa quel linguaggio di quel vuoto immenso e questa è la prima cosa numero due siamo oltre altre volte mentre mi fondo nel divino volere e quel vuoto immenso si fa davanti alla mia mente giro per tutte le cose create vedete mentre mi fondo giro ecco quella contiguità di cui parlavo prima no e vi imprimo un ti amo per quella maestra suprema come se io volessi empire tutta l'atmosfera di tanti ti amo per ricambiare l'amore supremo di tanto amore verso le creature anzi giro per ogni pensiero di creatura e vi imprimo il mio ti amo per ogni sguardo e vi lascio il mio ti amo per ogni bocca e ad ogni parola vi suggero il mio ti amo per ogni palpito opera e passo e li copro col mio ti amo al mio dio scendo fin laggiù nel mare nel fondo dell'oceano in ogni guizzo di pesce in ogni goccia d'acqua li voglio riempire del mio ti amo onde dopo che dappertutto come se si seminasse il mio ti amo la piccola bambina si porta innanzi alla maestra divina e dice come se volesse fargli una sorpresa mio creatore padre mio mio gesù mio eterno amore guardate tutte le cose da parte di tutte le creature vi dicono che vi amano dovunque c'è il ti amo per voi cielo e terra ne sono pieni e voi non concederete alla piccola piccina che la vostra volontà scende in mezzo alle creature si faccia conoscere faccia pace con la volontà umana e prendendo il suo giusto dominio il suo posto d'onore nessuna creatura faccia più la sua volontà ma sempre la vostra altre volte poi mentre mi fondo nel divino volere tre siamo agliati e voglio dolermi di tutte le offese fatte al mio dio e riprendo il mio giro in quel vuoto immenso per trovare tutto il dolore che il mio gesù ebbe per tutti i peccati lo faccio mio e giro ovunque nei luoghi più reconditi e segreti nei luoghi pubblici su tutti gli atti cattivi per dolermi per tutte le offese per ciascun peccato mi sento che vorrei gridare ad ogni moto della creatura dolore perdono e per fare che tutti lo sentissero lo imprimo nel rumoreggiare del tuono affinché tutti affinché tuono in tutti i cuori dolore di aver offeso il mio dio perdono nello scoppio della folgole dolore nel sibiro del vento dolore perdono nel tintinio delle campane dolore perdono insomma in tutto e poi porto al mio dio il dolore di tutti ed imploro perdono per tutti e dico grandio fate scendere la vostra volontà sulla terra affinché il peccato non abbia più luogo è la sola volontà umana che produce tante offese che pare che allaga la terra di peccati la vostra volontà sarà la distruggetrice di tutti i mali perciò vi prego contentate la piccola figlia della vostra volontà che non vuole altro che la vostra volontà sia conosciuta ed amata in tutti i cuori e questa è la fine del numero 3 4 ricordo che un giorno stavo fondendomi nel santo volere divino ed io guardavo il cielo che pioveva a dirotto e sentivo un piacere nel vedere scendere l'acqua sulla terra ed il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno con amore e tenerezza indicibile mi diceva figlia mia in quelle gocce d'acqua che vedi scendere dal cielo c'è la mia volontà essa corre rapidamente insieme con l'acqua si parte per dissetare le creature scendere nelle viscere umane nelle loro vene per rinfrescarle e costituirle e costituirsi vita delle creature e portare loro il mio bacio il mio amore parte per innaffiare la terra per fecondarle a prepararle il cibo parte per tanti altri bisogni delle creature la mia volontà vuole avere vita in tutte le cose create per dare vita celeste naturale a tutte le creature ma essa mentre va come in festa piena di amore verso tutti non riceve l'adeguato ricambio resta come digiuna da parte delle creature figlia mia la tua volontà fusa nella mia corre pure in quell'acqua che piove dal cielo corre insieme dovunque sa va non la lasciare sola e dalle il ricambio del tuo amore per tutti ma mentre ciò diceva sono restato incantate le mie pupille non le potevo spostare da dentro quell'acqua che scorreva la mia volontà correva insieme vedevi in quell'acqua le mani del mio Gesù moltiplicate in tante per portare con le sue mani l'acqua a tutti onde chi può dire quello che provavo in me lo può dire solo Gesù che ne è l'autore ma chi può dire tanti modi nel fondermi nel suo santissimo volere per ora basta il dire se Gesù vorrà dare i vocaboli la grazia di dire altro io riprenderò al mio dire oltre di ciò stavo dicendo al mio Gesù dimmi amore mio che cosa è questo vuoto che mi si presenta davanti alla mia mente quando mi fondo nella tua santissima volontà qui torniamo alla prima immagine chi è questa bambina che esce da me e perché sente una forza irresistibile di venire al tuo trono per venire a deporre i suoi piccoli atti nel grembo divino quasi per fargli una festa ed il mio dolce Gesù tutto bontà mi ha detto vediamo chi l'aveva capito che cos'era il vuoto figlia mia il vuoto è la mia volontà messo a tua disposizione che dovrebbe riempirsi di tanti atti per quanti le creature ne avrebbero fatti se avessero compiuto la nostra volontà questo vuoto immenso che tu vedi rappresentante della nostra volontà uscita la nostra divinità a bene di tutti nella creazione per felicitare tutto e tutti quindi era come di conseguenza che tutte le creature dovevano riempire questo vuoto con ricambio dei loro atti e donazione della loro volontà al loro creatore e non avendolo fatto facendoci l'offesa più grave perciò chiamammo te commissione speciale per essere rifatto e ricambiato di ciò che gli altri ci dovevano ed ecco la causa per cui prima ti disponemmo con una lunga catena di grazie e poi ti domandammo se volevi fare vita nella nostra volontà e tu accettasti con un sì legando la tua volontà al nostro trono senza volerla più conoscere perché volontà umana divina non si riconciliano né possono vivere insieme onde quel sì cioè la tua volontà esiste fortemente legata al nostro trono ecco perciò l'anima tua come piccola bambina è come tirata innanzi alla maestà suprema perché c'è il tuo volere innanzi a noi che come calamita ti attira e tu invece di guardare la tua volontà ti occupi solo di portare in grembo a noi tutto ciò che hai potuto fare nella nostra volontà e depone nel nostro seno la nostra stessa volontà come l'omaggio più grande che a noi conviene ed il ricambio a noi più gradito onde la non curanza della tua volontà ed il solo volere nostro che vive in te ci mette in festa i tuoi piccoli atti fatti nel nostro volere ci portano le gioie di tutta la creazione sì che pare che tutto ci sorride ci fanno festa e nel vederti scendere dal nostro trono senza neppure guardare la tua volontà portando di con te la nostra è per noi la gioia più grande perciò ti dico sempre si attenta al nostro volere perché in esso c'è molto da fare e quanto più farai tanta più festa ci farai ed il nostro volere si verserà a torrenti in te e fuori di te ora non vorrei essere troppo prolisso diciamo così nel commentare questo questo brano no allora vorrei assoluto suggerire una una cosa ci sono alcune caratteristiche diciamo così alcune dinamiche alcuni processi chiamiamoli come come meglio pensiamo del modo di pregare nella divina volontà che non si capiscono subito bene d'accordo io per capire un pochino i giri ci ho messo del tempo allora qual è il segreto il segreto è leggere puoi rileggere puoi rileggere puoi rileggere puoi rileggere puoi ascoltare una bella catechesi ce ne sono tante in giro puoi ascoltarne un'altra puoi ascoltare un'altra ancora d'accordo è chiaro che teniamo presente che una cosa che Gesù dice no prima di portarti dentro la mia volontà ti ho disposto con una lunga catena di grazie d'accordo cioè luisa non ha avuto queste cose dall'oggi al domani qui stiamo nel 1925 il volume al diciassettesimo stiamo più o meno a metà dell'opera quando diciamo nel lungo ciclo di di meditazione che è tuttora in corso siamo arrivati al volume ventesimo io ho voluto distinguere proprio i primi dieci volumi dagli altri e infatti le meditazioni sui primi dieci volumi si trovano in un podcast che si chiama come ci si prepara a vivere nel fiat supremo sono dieci volumi è tanta roba e poi dall'undicesimo in poi è vivere nel fiat supremo perché perché i primi dieci volumi sono dedicati sì c'è qualche cenno alla divina volontà ma sono fondamentalmente dedicati al fare la divina volontà c'era la divina la singolare sorprendenza coincidenza insomma la meditazione di questa mattina Gesù spiegava benissimo la differenza tra il fare la divina volontà e possedere la divina volontà vivere nella divina volontà che sono due cose distinte ma la prima prepara la seconda perché se non c'è la prima la seconda non ci può sta d'accordo quindi se ancora uno c'è difficoltà a entrare nella seconda pazienza d'accordo continua esercitarsi nella prima continui a cercare la volontà di dio a cercare di farla metterla in pratica in tutte le dimensioni possibili e immaginabili che tanto quello è operazione che resterà anche nella seconda d'accordo rimane in perpetuo non è che poi svanisce è chiaro che qui stiamo nella seconda d'accordo cioè queste operazioni sono operazioni spirituali sono esercizi spirituali questi qui cioè il gesto del fondersi e del girare sono tecnicamente esercizi spirituali attenzione però sono esercizi spirituali che non sono come dire fantasie diciamo così e chimere quindi cose ma sono assolutamente produttive di effetti impressionanti in chi li fa in dio stesso come gesù spiega e nel mondo intero cioè come tante volte ho avuto modo di dire cioè adesso voi sapete stiamo vivendo un momento storico molto particolare molto travagliato un momento storico sociale economico se vogliamo politico ecclesiale difficile duro pesante travagliato d'accordo allora qual è la cosa più grande che si può fare per contribuire come dire a una soluzione in bene di tali grandi problemi allora se uno segue le indicazioni provenienti da questi scritti non è che sta a braccia concerte nel senso che problemi politici ci vogliono anche politici che poi completamente si siedono a risolverli d'accordo io sono un prete sono un parroco non mi posso mettere tutto il giorno a fare i giri e poi non fare il parroco quindi trascurare i miei doveri trascurare la predicazione trascurare l'amministrazione dei sacramenti la visita alle famiglie la visita ai malati i sacramentali le benedizioni e gli impegni che devo svolgere per conto di incarichi diretti del vescovo l'amministrazione anche terra terra della parrocchia non è questo d'accordo però quello che si fa proprio è che la cosa principale da fare non è la nostra noi dobbiamo fare in modo che sia la divina volontà a intervenire a operare e a trasformare dal di dentro tutto e tutti perché la causa unica di tutti i mali che ci sono in giro sono le volontà umane e le volontà umane non cambiano se io le prendo per il collo e le comincio a sbatacchiare a destra e a sinistra no c'è bisogno di una riconciliazione profonda tra tutte le volontà umane e quelle divine come si compie questa operazione non solo chiedendo a dio lo chiediamo sempre nel padre nostro venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra questo va bene sono duemila anni che la chiesa lo fa e si deve fare o anche chiedendo al signore venga il regno della tua volontà venga il regno della tua volontà c'è una preghiera delle 33 preghiere della della moltiplicazione no c'è una preghiera della moltiplicazione che prende proprio la versetto del padre nostro del fiat santificante perché dice venga il tuo regno signore e sia fatta la tua volontà ripetuto per 33 volte venga il tuo regno signore sia fatta la tua volontà tutte queste preghiere fanno tutte quante bene ci sono poi però queste cose del tutto peculiari cosa sta facendo qui luisa allora abbiamo visto quattro cose la prima anzitutto descrive questa un'esperienza peculiare sua cioè se io mi fondo nella divina volontà parlo di me d'accordo non vedo nessun vuoto non vedo nessuna bambina che esce dalla mia anima non vedo nessuna santissima trinità perché io sono un povero uomo un povero peccatore che d'accordo non sono cioè quindi evidentemente in questa circostanza come quando accadono le cose straordinarie cioè gesù fa vedere come dire fa vivere a luisa in maniera tangibile ciò che però sempre accade se io mi fondo con la divina volontà posso anche non vederlo il vuoto ma sempre in quel vuoto entro posso anche non vedere le tre persone della santissima trinità ma è con loro che entro in contatto posso anche non vedere la bambina che la mia anima che si slancia che cerca di arrivare a loro ma comunque questo è un fenomeno che accade è come quando accade il miracolo eucaristico che cos'è il miracolo eucaristico il miracolo eucaristico non è in realtà un miracolo cioè lo è e non lo è perché il miracolo eucaristico non fa altro che mostrare ciò che in ogni messa accade solo che non si vede cioè se noi andiamo a messa non è che vediamo che l'ostia diventa carne viva e come dire e ne escono e ne fuoriescono grumi di sangue vivo non lo vediamo questo qui ma questo accade sempre durante la missa non è che siccome io non non lo vedo perché il signore ha voluto lasciare ordinariamente noi suoi figli dentro l'orizzonte della fede non è che siccome non lo vedo io posso dubitare allora ogni tanto nostro signore nel corso della storia ha permesso ha voluto meglio che attraverso un evento sopranaturale tutti potessero vedere quello che sempre accade quindi che significa significa che questa cosa c'è beata luisa quando si fondeva io invece sento niente attenzione non senti niente ma tu vivi la stessa identica io e te se facciamo quest'operazione viviamo la stessa identica cosa senza nessuna differenza quando luisa dice la mia forza è quello sguardo in alto è come non non trovarci subito per noi come dire una una invito un'esortazione no da dove viene la nostra forza qual è la forza di un cristiano perché un cristiano non trema come dice il salmo se crolla la terra se crollano i monti nel fondo del mare quando tutto quanto noi rimaniamo in piedi e stiamo salmi perché siamo incoscienti perché siamo folli d'accordo no perché abbiamo lo sguardo fisso verso la santissima trinità adesso stiamo vivendo nel tempo no adesso non si parla di altro che di che di questa pandemia ma nella santissima trinità la pandemia è già bella che finita non è che penso che nessuno penserà che questa cosa durerà in eterno d'accordo nella trinità questa cosa è già finita d'accordo così come prima che arrivasse era già cominciata d'accordo quindi c'è questo sbocco c'è questa dimensione è chiaro che questo segna anche discriminante tra chi la fede c'è la chi la fede non ce l'ha perché c'è una grande differenza tra averci la fede e non averci la fede si campa differentemente io recentemente sta sul mio canale youtube ho fatto un'umeria che l'ho intitolata credo così non so se l'ho proprio intitolata ma comunque lo dico all'interno dell'umeria la fede è quella cosa con la quale o senza la quale niente nella vita rimane uguale cioè un credente o non credente io non le stesse cose cioè qui adesso in mezzo mondo la pandemia ci sta solo che la vive il credente da credente e la vive il non credente da non credente ai posteri la tua sentenza per vedere come si campa meglio insomma se con la fede o senza la fede no cioè per me evidentemente la risposta è a dir poco scontata retorica allora in questa prima operazione cosa fa luisa entrando in questo vuoto vengo ad adorarvi a benedirvi a ringraziarvi per tutti cioè qui siamo nel 1900 scusate 25 otto anni nove anni prima l'angelo del portogallo aveva detto ai pastorelli di fatima mio dio io credo adoro spero e ti amo e ti chiedo perdono per tutti coloro che non credono non adoro non sperano non ti amano quindi hai già fatto capire vedete dietro questi esercizi è come dire sottintesa la grande categoria chiamiamola teologico spirituale ascetica come voi preferite della riparazione cioè poi Gesù spiega questo vuoto che cos'è questo vuoto sono tutti gli atti di obbedienza alla mia volontà di gratitudine di adorazione di benedizione sappiamo quanti uomini che sono esistiti da Adamo a oggi e quanti ne esisteranno fino alla fine del mondo ma chi è che spende ogni istante della sua vita nella divina volontà facendo sempre e solo la divina volontà e vivendo in essa ma questo sarebbe dovuto essere come dire compito di tutti i membri della razza umana altro che vuoto gigantesco se non vedessimo ci prenderebbe un infarto ci prenderebbe è una voragine d'accordo è una voragine infinita e allora che succede? succede che Luisa ci va dentro e attraverso la divina volontà qui è fusa che succede con la fusione? questo ripetiamo concetti già noti non fa niente ripetiamo fino alla nausea se tu ti unisci alla divina volontà tutte le volontà, tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi tu li cogli, li prendi perché la divina volontà è un atto solo e dentro di sé contiene il tutto quindi io in questo momento voglio focalizzarmi sulle volontà che non ti hanno benedetto signore che non ti hanno ringraziato che non ti hanno adorato che non hanno fatto la tua volontà e allora che faccio? bene vi adoro vi benedico vi ringrazio per tutti lego al vostro trono le volontà umane di tutte le generazioni ancora a nome di tutti e per tutti voglio riparare, dare l'omaggio, la gloria come se tutti avessero fatto la vostra santissima volontà questo è un giro questo qui non è come dire semplicemente un atto semplice di fusione ma è un atto di fusione a cui è collegato questo giro che significa giro? significa che io ho viaggiato evidentemente alla velocità ancora più veloce della luce quindi in un attimo ho girato quindi sono entrato nelle teste, nelle menti, nelle volontà di tutti quanti i miei fratelli e sorelle della razza umana e al tempo stesso dentro questo vuoto ho fatto miei, i loro atti e ho prestato, come dire, ho steso, ho fatto scorrere la mia adorazione fusa con la divina volontà nelle menti e nelle volontà di tutti dando a Dio riparazione io capisco che questo è un, come dire, non è, questi sono, sono, come dire, concetti molto spirituali però attenzione, non confondiamo mai lo spirituale con l'eterio, con il vago, con l'indeterminato ma a che serve sta roba attenzione San Paolo scrive nelle sue lettere ci sono differenti, come dire, modalità di parlare cioè il parlare, tra virgolette, lui lo chiama psichico, d'accordo? quindi parlare in maniera adatta a persone che sono, diciamo così, pregne ancora di categorie e di mentalità umana dice, per queste persone i discorsi spirituali non ci capiscono niente, sono follia per loro perché ancora non riescono ad elevarsi questa non è una cosa fatta, come dire, non è una cosa, come dire, fatta per pochi eletti no, è semplicemente il frutto naturale di un cammino, d'accordo? è chiaro che se io non ho mai sentito parlare in vita mia, non so neanche che cos'è la riparazione ma questo Gesù l'ha spiegato 400 anni fa no, 300 anni fa, quasi 400 anni fa quando ha dato le rivelazioni sul Sacro Cuore a nome di Gesù se uno vuole capire che cos'è la spiritualità di riparazione studi bene le rivelazioni di Gesù a Santa Margherita Maria La Cocca se tu hai capito quel concetto allora poi puoi fare questo step ulteriore perché la riparazione può essere fatta con un atto di volontà umana nel senso che io faccio, per esempio, un digiuno e lo offro al Signore in riparazione dei peccati degli uomini questo è un digiuno mio, è un atto mio, è un sacrificio mio quindi è un'azione mia, personale che il Signore certamente la gradisce se io lo faccio con amore e per amore suo ma il valore di questo atto per quanto un digiuno possa essere un sacrificio è limitato perché è un atto di un atto limitato come sono io ma se io mi fondo nella divina volontà e prendo la sua forza e quindi moltiplico la forza di questo gesto e metto l'intenzione davvero di raggiungere tutte le persone che hanno fatto il Signore e questo diventa una... capite? però se non ci ho chiaro il concetto base della riparazione io non riesco a capire bene cos'è un giro allora ecco perché ci vuole come dire un cammino già fatto cioè la vita nella divina volontà è come dire una tensione verso la... la santità delle santità la chiama Gesù io questo è un termine che ripeto in continuazione d'accordo? la santità delle santità quindi significa che non si arriva a questa santità se già non c'è un cammino di santità che uno desidera percorrere capito? è come se uno volesse andare all'università senza aver fatto le scuole elementari le scuole medie le scuole superiori non è possibile non si può fare l'ho detto tante volte durante tante catechesi questo è il primo la seconda cosa queste erano tutte quante riparazioni adorazioni eccetera eccetera il secondo grande giro lo possiamo chiamare il giro del Tiamo il Tiamo il Tiamo il Tiamo il Tiamo non soltanto adorarvi benedire e riparare e ringraziare per tutti ma soprattutto il Tiamo giro per tutte le cose create e vi imprimo un Tiamo e qui comincia prima parte con gli esseri umani anche qui siamo sempre nell'atto della fusione questa cosa è possibile soltanto se io sto spiritualmente fuso con la divina volontà perché io non posso chi di noi è capace di entrare dentro la volontà di un altro o meglio in un istante di entrare dentro quanti miliardi di persone ci saranno in tutto il corso della storia 50 miliardi adesso siamo vivi in 7 miliardi che ne so io 50 miliardi 100 miliardi sono tanti 100 miliardi di esseri umani cioè come faccio allora dice io voglio riempire l'atmosfera di tanti ti amo per ricambiare l'amore supremo del tuo grande amore o Signore verso tutte le creature allora cominciamo ogni pensiero di creatura voi pensate ogni pensiero di creatura cioè fermiamoci un attimo d'accordo io mocio quasi 50 anni quanti pensieri avrò fatto da quando ho cominciato a pensare in maniera cosciente quanto ci avevo un anno un anno e mezzo che ne so a oggi quanti pensieri cioè andiamo dobbiamo prendere le potenze non possiamo neanche fare 10 elevato alla nonna insomma quanti trilioni di pensieri ci avrò avuto noi stavamo pensato la mattina alla sera cioè io so uno però ho 50 anni moltiplichiamo uno per 100 miliardi di esseri umani e per 100 miliardi di vite ci vuole un numero cioè è inimmaginabile eppure io metto un ti amo in ogni pensiero di creatura poi basta in ogni sguardo vi lascio il mio ti amo quanti sguardi di creatura ci sono state ogni bocca e ogni parola quante parole sono state dette in quante lingue tutto quanto il mondo ma sapete quante lingue si parla tutto quanto il mondo non si sa tra lingue e dialetti no pensiamo anche alla nostra bella Italia si qua si parla l'italiano ma quanti dialetti ci stanno in Italia quanti dialetti quante parole sono state dette dagli esseri umani capito poi ogni palpito ogni palpito significa un battito cardiaco noi ce l'abbiamo circa in condizione di salute normale tra i 60 e i 70 battiti al minuto vogliamo fare vogliamo fare un conto di quanti battiti ci sono nella vita di un essere umano ricominciamo a scrivere le potenze 10 elevato alla 14 e in 100 miliardi di esseri umani quanti palpiti voi capite fare una cosa di questo genere a leggerla ci ho messo due minuti a pregarla ci vuole ancora di meno perché il messiero va più veloce delle parole cioè quanti ti amo abbiamo detto a Dio con questo sistema cioè Sor Consolata a Betrone è stata l'apostola dall'atto d'amore se tu soltanto dici Gesù ti amo già una cosa del genere Gesù è proprio felice è uno degli atti più santificanti ma tu capisci che così in un istante gli eredetti innumerevoli e quante volte puoi fare questa operazione quando ti pare più 50 volte al giorno se c'è tempo di farlo 50 volte al giorno ogni bocca ogni palpito opera passo noi adesso abbiamo i contapassi no tutti quanti abbiamo gli smartphone qualcuno ha gli smartwatch se tu c'è lo smartwatch la sera prima che vai a dormire guardi l'orologio e dice oggi hai fatto 12.476 passi ok mentre rontiamo in ogni passo di una creatura vogliamo fare un altro po' dei conti se uno fa di media dicono i salutisti che 10.000 passi al giorno sono il numero ideale per stare bene d'accordo 10.000 al giorno vogliamo fare un po' dei conti quanti sono in un mese quanti sono in un anno quanti sono in una vita ecco e quale poi non è finito poi comincia finiti gli esseri umani quindi il palpito la bocca l'opera e i passi eccetera adesso cominciamo con le creature scendo nel mare nel fondo dell'oceano chi di noi sa che cosa ci sta nel fondo dell'oceano io non ho visto qualche documentario ma capite che che ci sta là dentro adesso mentre sto parlando ma guardate che gli oceani sono grossi io ricordo quel paio di volte che ho fatto due o tre volte le intercontinentali per passare dall'Europa all'America non te passa più eh cioè l'aereo corre eh ma prima che te passi che te passi tutto quanto la transoceanica con l'oceano atlantico non è il più grande il più grande è il pacifico ma quanta acqua c'è sta là dentro ma che abisi c'è stanno lì dentro se ogni guizzo di pesce ogni goccia d'acqua li voglio riempire del mio ti amo vogliamo vogliamo fare un'altra potenza quante gocce d'acqua ci stanno dentro gli oceani attenzione adesso ma poi noi sappiamo benissimo che attenzione lì l'acqua evapora in continuazione poi viene ricambiata dalla pioggia che dopo Gesù parla pure della pioggia delle gocce d'acqua della pioggia capite dappertutto e quindi qual è il fine di questo che tutte le cose che sono uscite dalla tua volontà tutto abbia un ti amo per te cielo e terra sono pieni e questo perché perché la vostra volontà scendi in mezzo alle creature io facendo questo la sto attirando la sto chiamando d'accordo la sto invitando a scendere questa è la grande è la grande proprio operazione ancora non abbiamo ancora finito qua c'è il perdono qua qui dolore e perdono quanti peccati vengono fatti dalla mattina alla sera ah qui proprio sarebbe ci saranno più gocce nell'acqua del mare o più peccati che vengono fatti ogni giorno qui proprio ci si perde proprio qua manca averci il pallottoliere con le potenze più folli insomma no e sto vuoto immenso chi è che lo ripara allora altro giro mi prendo tutto il dolore che Gesù ha vissuto per tutti i peccati non soltanto davanti alla passione ma tutta la vita e comincia a girare dappertutto ed i giri nei luoghi reconditi e segreti quante schifezze che si fanno nel buio nell'ombra insomma in altri dove gli uomini pensano di non essere visti possono scampare dallo sguardo del prossimo ma non da quello di Dio d'accordo e quindi io vado dove? su tutti gli atti cattivi umani per dolermi per addolorarsi cioè io auguro a qualcuno di farla questa esperienza quando Gesù dice nel Vangelo beati gli afflitti perché saranno consolati non sta dicendo beati i piagnoni perché cristiani non sono piagnoni sono tutto tranne che piagnoni cristiani ma ci sono le lacrime sante e tra le lacrime sante le stanno quelle sui peccati nostri e io auguro a chiunque senta questa piccola condivisione fraterna di versarne e tante sui peccati propri ma ci sono anche le lacrime da versare sui peccati degli altri chi si duole per tutti quanti i peccati commessi dal mondo che hanno provocato tanti dolori e tante pene al cuore di Gesù e tante spine al cuore della manorna chi? e chi facendo questo trasforma questo dolore in un grandissimo giro per dolersi e per chiedere a Dio perdono a nome di tutti ed esprimere un dolore per tutti e poi se ne inventa un'altra d'accordo? perché nella divina volontà poi io tante volte dico la fantasia si libera e Dio vuole che la nostra creatività una volta che uno capisce alcune dinamiche si si sfoghi si esprima dice guarda sai che faccio? dolore e perdono gli voglio imprimere nel rumoreggiare del tuono perché ogni volta che c'è un tuono si senti tuonare nel cuore dolore per aver offeso il mio Dio e perdono nello scoppio della folgore quando quando c'è un fulmine no? voglio che quel fulmine porti essendo anche il fulmine un atto della divina volontà porti però in tutti quanti i cuori la luce che faccia dire perdono nel sipiro del vento quante volte il vento soffia voglio mettere la parola perdono in grido perdono nel sipiro del vento dappertutto e in questo modo porta il mio Dio il dolore di tutti ed imploro perdono per tutti dicendo fa scendere questa volontà perché questa volontà divina perché se non scende la volontà divina continua a imparare la volontà umana e la volontà umana produce tante offese che allaga la terra di peccati e produce mali infiniti e solo la tua volontà sarà la distruggetrice di tutti i mali come la fabbrica del male è la volontà umana è il peccato il peccato è la fabbrica del male tutti i mali che noi vediamo comprese le pandemie tutti nessuno escluso sono tutti figli degli atti di volontà umana i più gravi cioè quelli che fuoriescono più gravemente dalla volontà di Dio che sono i peccati questo non c'è nessun dubbio ancora altra cosa vedete qui c'è anche l'apertura allo sguardo contemplativo lei comincia a guardare la pioggia chi di noi si è mai messa a guardare la pioggia e a guardarla con quello sguardo contemplativo dice non riuscivo a spostare lo sguardo da quell'acqua che scorreva chi di noi quando guarda la pioggia pensa questo è un atto di divina volontà Gesù mi sta dicendo ti amo attraverso quella gocciolina d'acqua a me piace tanto stare sotto l'acqua se non fosse che poi uno si bagna sapia un accidente se si potesse insomma che dopo te devi prendere qualche malanno mi piacerebbe tantissimo stare tanto tempo sotto la pioggia per sentire proprio questo fenomeno dice Luisa quello è un atto della tua volontà è l'atto a mano Gesù che si sta facendo come dire canale da cui sgorga quest'acqua perché quest'acqua sarà fecondità della terra per prepararci i frutti sarà possibilità per noi di astergerci di purificarci dalle nostre sozzure entrerà nel nostro nel nostro organismo nelle nostre vene attraverso l'acqua che beviamo a portarci il ti amo quante volte l'abbiamo detto quando uno beve un po' d'acqua ci pensiamo quando beve un po' d'acqua a sentire il ti amo di Dio che attraverso l'acqua entra dentro di noi e porta la vita dell'acqua dentro il nostro organismo o quando ci laviamo è bellissimo quando uno si lava quindi farsi attenti e sentire la carezza di Dio attraverso l'acqua che scorre sul nostro corpo a accarezzarci a lavarci ad astergerci queste sono tutte capite quando uno vive nella divina volontà pure se non sta in chiesa tutto quello che fa viene trasfigurato tutto quello che fa viene trasformato sia che mangia sia che beve sia che dorme perché si dorme nella divina volontà si mangia nella divina volontà si si veste nella divina volontà si si lava nella divina volontà cioè diventa poi piano piano un come dire un fluire continuo ecco perché come gradualmente si arriva a quel famoso H24 a rimanere connessi come i modem delle nostre connessioni internet il modem sta sempre connesso adesso ormai nelle nostre case io il modem non spengo mai insomma anche di notte mentre uno dorme dice ma di notte che sta a fare connesso sta connesso perché se arriva una mail la leggo domani mattina insomma quindi stando connesso siamo sempre siamo sempre appunto in connessione con con la rete quindi questo è capite che roba che è no e poi Gesù conclude spiegando appunto quella visione no quindi non solo quella visione ma l'esperienza straordinaria che manco lui se ce ce capiva niente quindi e dice guarda ecco ogni volta che tu giri riempi questi vuoti abissali della mia volontà attraverso i tuoi atti e più lo fai e meglio è e più lo fai e più si affretta la venuta del regno della della divina volontà e e più attenzione questo è un grande regalo che questa operazione produce in noi e concludiamo magari con queste considerazioni dice tu invece di guardare la tua volontà ti occupi solo di portare in grembo a noi tutto ciò che ha potuto fare nella nostra volontà e attenzione la non curanza della tua volontà ci mette in festa la non curanza della tua volontà e quindi conseguentemente il volere nostro che vive in te io è tutto contento perché quando noi avremo smesso di curarci della nostra volontà saremo le persone più felice di questo mondo e Dio sarà felice di vederci felici ecco ci fermiamo insomma perché siamo andati fuori il tempo massimo quindi mi raccomando quando sentiamo queste cose abbiamo capito alcune 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 dinamiche poi evidentemente queste sono veramente considerazioni letture che poi devono essere piano piano con calma ecco messe in pratica messe in pratica scatenando la nostra fantasia perché poi ognuno si ripersonalizza come vuole i giri si può inventare tutto e di più questo è proprio l'ambito è l'ambito estremo proprio della creatività e quindi buoni ulteriori giri a tutti in attesa di farci un altro giro ecco nella prossima puntata almeno una puntata al mese e ne faremo insomma di queste qua adesso quest'anno è chi segue un pochettino anche dalle dirette insomma un pochino il mio apostolato ho pensato insomma che fosse opportuno dare cadenza settimanale alle catechese sulla salva dottrina cattolica anche perché sulla Dina Volontò ho già detto un sacco di cose e poi c'è comunque una alimentazione continua insomma per chi vuole perché ogni giorno c'è un video o un podcast su youtube oppure in giro però comunque questo argomento secondo me va chiuso ecco perché chiude un pochino la serie ecco delle catechesi sulla divina volontà alla prossima ripeto chi vuole basta seguire insomma gli avvisi sui miei social sul mio sito web per sapere quando ci sarà la prossima catechesi sarà comunque un mercoledì tra una ventina ecco di giorni massimo entro un mese ci sarà un'altra puntata la mia benedizione a tutti una santa notte Dio vi benedica Ave Maria Dio vi benedica grazie a tutti